Sto viaggiando in compagnia della viaggiautrice inglese Emily Lowe e del suo libro Guida donne in difesa in Calabria nel quale racconta il suo viaggio svolto nella regione nel 1859 a cui aggiungo il mio racconto di borghi e città toccati dal nostro viaggio. La maggior parte delle persone crede che questo principato che deve il nome al figlio maggiore del re abbia inizio vicino a Napoli anziché esserne separato da diverse province e consiste in tre parti principato ultra prima con capitale reggio ultra seconda con capitale catanzaro e citeriore con capitale la città di Cosenza verso cui siamo dirette. La corriera postale le attraversa tre volte la settimana e in cinque giorni e cinque notti arriva a Napoli passando per la Basilicata e toccando Bari. Alle nove del mattino lasciò reggio. Prima di quell'ora gli inviati del cavaliere assieme al giovane mercante e a suo fratello erano in nostra attesa ciascuno con un nuovo sonetto e una bottiglia di bergamotto. Insistettero per accompagnarci nelle prime dieci miglia ma nonostante gli altri passeggeri ci avessero usato la cortesia di sistemarsi sul tetto della carrozza erano liberi solo due posti a sedere. Così si arrivò a un compromesso per cui quelli che sarebbero partiti ci avrebbero letto le poesie di quelli rimasti a terra. La lettura fu accompagnata dagli schiocchi di frusta del postiglione e mamma fu abbastanza maliziosa da ridere di cuore sotto i baffi. Essendo io la musa alla quale era diretta la durazione poetica mi sentii confusa dalle lodi e ascoltai cosa cantavano di Donna Emilia felici di aver trovato un soggetto cui ispirarsi. Quando non c'è nessuna donna a disposizione sulla via di solito è Scilla la maggiore ispiratrice di Pietra. Ma se qui sono capaci di essere tanto poetici nei confronti di una semplice ragazza inglese quanto li avrebbe allora ispirati una delle nostre bellezze classiche? Sarei veramente lieta di avere una posizione più defilata per il piacere di osservare a distanza la loro eccitazione. Nel frattempo riferirò una delle poesie minori per mostrare di cosa siano capaci i giovani italiani. Bella qual vaga mattutina aurora che fiammeggia il suo crindoro gemmata pari a quel raggio cavido sindora sul mattin della stella innamorata. Ma apparisti oh donzella e la sonora tua voce al cor mi siese desiata il candor la beltate che ti inflora il viso mi ti reser più bramata. La tua dimora in van sperai che breve non fusse per lenire il mesto core che di te si invaghi spirito gentile. Il dolor che mi stringe un quasimile udirsi può per tue virtute l'amore mi rende il tuo partir è tristo e greve. Alla prima fermata Villa San Giovanni i giovani entusiasti furono costretti a scendere per far posto al corriere il quale esausto a causa del suo lungo viaggio era rimasto lì a riposare prima di rimettersi sulla via del ritorno che avrebbe portato comportato dieci giorni e dieci notti di scossoni ammettendo che le strade fossero nelle condizioni migliori. Quando nevica in abbondanza lì sulla catena di cui fa parte il monte Cocuzzo e il Gran Sasso d'Italia il viaggio si prolunga indefinitivamente. Un soldato armato salì in carrozza e prima di entrarvi curò di sistemare lo spadino in posizione fra di noi e facendolo seguire poi dall'uniforme e dal grado e fu accolto come un gentiluomo e come tale si comportò per tutto il viaggio facendo dei nostri desideri una legge e invece di farsi condizionare dal servizio di posta mise la carrozza, i cavalli e i postiglioni a nostra completa disposizione. Così diede ordini di fermarsi nei posti più belli perché noi potessimo disegnarli. Per prima venne Scilla che sembra un'aquila di mare con la sua cresta svettante e le ali di rupe fortificata. I suoi cani che Omero dice ringhiassero così spaventosamente erano solo piccole rocce che si bagnavano dolcemente nel mare calmo cullando i delfini dove una volta cantavano le sirene assassine. Mentre stavo disegnando un signore uscì da un giardino per offrirci un mazzo di rose mostrando con quel piccolo gesto un fatto direzioso quanto quei luoghi fossero poco frequentati dai viaggiatori cosa confermata dall'assenza di mendicanti. La bellezza delle vedute sembrava aumentare a ogni istante. Stromboli sorgeva come una piramide con la punta tagliata una dopo l'altra le isole Lipari apparivano all'orizzonte. Il faro di Messina, punta della Sicilia, con i suoi due laghi sembrava si sforzasse di toccare la costa sotto di noi tanto era sottile o stretto. Distese di alberi di gesso che producono frutti di due tipi bianchi o neri si alternavano lungo la strada a viti fissate ad alti colonnati di pietra cariche di grappoli così grossi che dovevano essere sostenuti da ceste appese sotto di loro mentre altri grappoli essiccavano per produrre uva passa. In prospettiva veniva avanti un gruppo di contadini che portavano una fanciulla vestita di bianco distesa su una bara piena di fiori. Scilla, detta anticamente Ushigyu in regino è un comune della città metropolitana di Reggio i cui abitanti sono detti scillesi o in dialetto scighitani. Alexander Dumas scrisse nel diario del suo viaggio in Calabria arrivai in città ammirando la sua strana posizione costruita su un'altura discende come un lungo nastro sul versante orientale della montagna poi girandosi a guisa di esse viene a distendersi lungo il mare è la perla della costa viola così chiamata dalle scogliere tra cui dimorava il mostro cantato da Mero Scilla è situata sull'omonima punta il promontorio Scilleo proteso sullo stretto di Messina che anticamente veniva infatti denominato stretto di Scilla è rinomata località turistica situata sul promontorio all'ingresso settentrionale dello stretto di Messina una delle cittadine più pittoresche della costa tirrenica calabrese situata ad anfiteatro di gradante verso le due baie divise dalla mitica rupe a picco sul mare sormontata dal castello che domina il porticciolo è notevole centro peschereccio ma anche agrumario con pittoresca spiaggia ed approdo è l'antica Scilleum nota per il classico mito legato al suo nome sul promontorio sorse l'Opidum Scilleum ricordato da Plinio che col tempo crebbe di importanza Scilla fu conquistata nell'800 d.C. dai Saraceni e nell'anno 1000 dai Normanni nel 1255 Pietro Ruffo in lotta con Manfredi ne fortificò il castello nel 1282 vi cercarono scampo invece le navi di Carlo I d'Angiò dopo il fallito assalto a Messina devastata dal terremoto del 1783 fu contesa nel periodo napoleonico dal 1806 al 1808 tra francesi ed inglesi e nel 1712 sostenne vittoriosamente un assedio inglese è uno dei centri più attivi della pesca al pesce spada Scilla è una tappa speciale che è innanzitutto un sublime momento di sintesi tra storia mito e bellezza nell'abbraccio che Scilla riserva al visitatore c'è il racconto di un luogo che incanta il cuore e lo spirito attraverso la forza evocativa del paesaggio ma anche il calore della gente del posto e il fascino antico delle tradizioni popolari il toponimo Schilla dal greco Cagna richiama un misterioso mostro che sarebbe irresponsabile di tempeste scatenatesi sul mare che determinarono la fine di molti naufraghi descritta da Strabone come uno scoglio simile a un'isola Scilla mantiene tuttora i tratti di questo paesaggio i suoi pochi abitanti furono degli abili navigatori e conoscitori delle rotte notizia questa che ci è confermata da San Girolamo le origini sono antichissime confuse tra mitologia storia leggenda e poetiche immagini alimentate per millenni dalla suggestività dell'ambiente naturale secondo la mitologia greca Scilla era una ninfa marina che per gelosia fu trasformata da Circe in un mostro mentre faceva il bagno in una caletta presso Zancle l'odierna Messina al posto di gambe e braccia ebbe sei teste di cane che la travano e lunghe code di serpente la storia è raccontata da Ovidio nell'odissea ma anche nelle metamorfosi nell'antichità a causa della tenuità e precarietà dell'informazione spesso accadeva che voci e dicerie col passare dei secoli si accrescessero fama crescit e undo dicevano infatti i latini o anche rumor multa fingit fino a perdere il loro originario significato talvolta addirittura trasfigurandosi in mitologia e questo è il caso della pericolosità della navigazione all'imboccatura settentrionale dello stretto di Messina ossia in corrispondenza del passaggio tra la penisoletta di Scilla in Calabria e il capo siciliano di Cariddi pericolosità considerata tale da aggiungere addirittura a far derivare questi nomi da quelli di due mitologici spaventosi mostri divoratori di naviganti ma da dove nasceva allora questa paurosa fama di Scilla e Cariddi probabilmente una certa pericolosità per le piccole e leggere imbarcazioni antiche doveva esserci ma questo evidentemente prima che i frequenti e devastanti terremoti e maremoti succedutisi nel corso del tempo in quella sfortunata zona ne avessero sicuramente mutato la geografia sottomarina il primo a parlarci di Scilla e Cariddi come mitici mostri sanguinari come ho detto fu Omero nella sua odissea poema a cui poi tanti antichi scrittori si rifecero data l'autorevolezza della fonte nacque pertanto il detto incappa in Scilla volendo evitare Cariddi per significare cadere dalla padella nella brace ma in realtà Schillei nome greco calabrese e Carides nome greco siciliano avevano lo stesso significato trattandosi infatti di due dei tanti nomi che allora nel Mediterraneo si davano ai gamberetti molto probabilmente dunque essere tra Scilla e Cariddi non significò in origine trovarsi tra due pericoli di pari gravità come più tardi invece si fraintese ma volle semplicemente dire se non è zuppa è pan bagnato cioè è inutile che tu te ne stia riflettere se far sosta a Scilla o a Cariddi tanto sempre gamberetti dovrai mangiare e dovevano essere anche crostacei molto buoni perché si narra che il famoso buongustaio romano Apicio autore di un ricettario di cucina vissuto tra il cento anticristo del centro dopo cristo era talmente ghiotto di gamberi gamberetti ed astici che girava il mediterraneo su una sua nave recandosi e fermandosi là dove c'era fama che si trovassero i migliori crostacei e si fermò anche a Scilla e Cariddi secondo Palifato Polibio e Strabone il primo nucleo abitato di Scilla risalirebbe ai tempi della guerra di Troia nella sua geografia scrive il geografo greco Strabone su Schillaion originale denominazione greca del luogo dopo il fiume Metauro c'è un altro Metauro segue poi il promontorio Schillaion in posizione elevata che forma una penisola con un piccolo ismo a cui si può approdare da entrambe le parti Anasilao tiranno di Region lo fortificò contro i Tirreni facendolo una stazione navale impedì così che i pirati attraversassero lo stretto vicino infatti c'è il promontorio di Caenis che è l'ultima estremità dell'Italia che viene a formare lo stretto infatti in questa remota epoca si è solito di riconoscere nella penisola italica ondate di migrazioni di popolazioni iberico liguri provenienti dal mare e dirette verso sud si ritiene dunque che tali popolazioni potrebbero aver fondato qualche villaggio lungo i terrazzamenti più bassi del crinale aspromontano sud occidentale di gradante verso lo stretto trattandosi di popoli di pescatori presumibilmente elessero come area di insediamento il sito adiacente alla rupe centrale di Scilla dove la presenza di numerosissimi scogli agevolava la pratica della pesca consentendo al tempo stesso la costruzione delle rudimentali capanne tale ipotesi è in parte avvalorata dallo stesso Mero allorquando nel descrivere crataia come madre di Scilla lascia intendere l'esistenza di uno stretto legame tra questa e la nascita del mito del Monstrum Scilleum da intendersi sorto dalla prima frequentazione umana del tratto di mare antistante l'odierna cittadina dal momento che crataia è dai più identificata come il vicino torrente favazzina ancora ai tempi del barrio chiamato fiume dei pesci se ne potrebbe dedurre che gruppi di popoli dediti alla pesca giunti via mare lungo la bassa costa tirrenica inizialmente siano approdati alla foce di questo fiume dove era agevole praticare l'attività e successivamente si siano spostati più a sud trasferendo la propria residenza presso la costa scillese più ricca di pesci in mancanza di precedenti testimonianze attendibili circa le epoche più remote si è propensi a far risalire la prima fortificazione di Scilla agli inizi del 500 a.C. allorquando durante la tirannide di Anassilao la città di Reggio raggiunse una notevole importanza che le permise di ostacolare per oltre 200 anni l'ascesa di potenze rivali Strabone racconta che nel 493 a.C. il tiranno di Reggio Anassilao il giovane per porre fine alle reiterate razzie perpetrate dai pirati tirreni a danno dei commerci aperti dalla città con le colonie tirreniche avesse mosso contro di loro con un forte esercito sconfiggendoli e scacciando i pirati da queste terre per i tirreni gli innumerevoli scogli e l'alta rocca caratterizzanti la costa scillese costituivano un rifugio naturale ideale luogo inaccessibile da cui dirigere redditizie scorrerie lungo le coste nascondiglio sicuro per il bottino e baluardo di difesa contro eventuali controoffensive nemiche sorsero quindi contrasti e lotte tra i primi marinai e pescatori che avevano occupato la zona e i pirati tirreni alla cui bellicosità forse si deve attribuire la causa dell'arretramento dal mare dei pescatori ostacolati dai pirati nella pratica su cui basavano il proprio sostentamento e ciò spiegherebbe il trasferimento di residenza verso la zona alta di Scilla l'attuale quartiere di San Giorgio attuato dalle genti marinare che si trasformarono in agricoltori e cacciatori espertissimi nella navigazione i tirreni avevano dominato a lungo dai incontrastati padroni le rotte del mediterraneo esercitando il proprio predominio soprattutto nello stretto grazie al presidio fortificato posto sulla rupa scillese all'imboccatura del canale più tardi però vennero sconfitti dai regini il che segnò un momento significativo anche nella storia di Scilla che venne considerata da Anassila o Anassilao un importante avamposto di controllo sulle rotte marittime mentre si assicurò il dominio sul territorio circostante inglobando una nuova parte del territorio regino al tempo stesso Anassilao ebbe cura di realizzare una stazione per le navi a capo Pacì ordinando la costruzione di un porto dotato di un agguerrito presidio militare l'opera di fortificazione dell'alto scoglio fu portata a termine dai successivi tiranni regini spesso impegnati in scontri con pirati che combatterono avvalendosi del porto fortificato appositamente costruito nella piccola borgata di Monacena nascondiglio isolato una zona anticamente riparata da alcune caverne poi distrutte e che si trovava verso capo Pacì in un luogo inaccessibile dal lato opposto allo scoglio baluardo della sicurezza dei regini la fortificazione di Scilla dotata di approdo fu di fondamentale importanza agli effetti del felice esito della guerra contro la pirateria consentendo ai tiranni di reggio di opporre per lungo tempo una valida resistenza contro gli attacchi di nuovi nemici e contro i continui tentativi di rivalza dei tirreni sconfitti agli inizi del 300 a.C. dopo la presa di reggio ad opera del tiranno di Siracusa Dionisio I che nel 386 a.C. aveva distrutto la flotta navale della città distanza all'Ipari e nel porto di Scilla fu la volta dei pirati tirreni che tornarono a reinsediarsi sul promontorio scillese dove ripresero a dedicarsi alla pirateria avvalendosi del preesistente porto fortificato fino a quando nel 344 a.C. il prode timoleonte di Corinto riuscì a sconfiggerli definitivamente. Per quanto riguarda la successiva storia della fortificazione dell'imponente scoglio di Scilla si ha testimonianza di come essa coincida con la storia delle vicende che hanno caratterizzato il regino all'indomani della tirannide siracusana. In tarda età magno-greca lo scoglio scillese fu una fortezza conosciuta come Oppidum Scilleum successivamente potenziata nelle sue strutture militari durante l'età romana allorquando Porto e Oppidum costituirono un funzionale ed efficiente sistema di difesa per i nuovi dominatori del Mediterraneo. Alla fine del 200 a.C. durante le guerre condotte dai romani contro i Tarantini sostenuti da Pirro e in particolare durante la prima e la seconda guerra punica i cartaginesi che avevano stretto alleanza con i Bruzzi e circolavano liberamente lungo le coste regine furono fermati nella loro ascesa proprio grazie alla strenua resistenza opposta loro dalla fortificata città di Scilla alleata di Roma. L'importanza della Scilla latina cominciò però a decadere all'indomani della conquista romana delle terre siciliane quando dopo Reggio e Siragusa Messina assurse a ruolo di nuovo caposaldo per il controllo dello stretto. Purtuttavia Scilla posta all'imbocco settentrionale del canale continuò a costituire un'importante tappa da prodo lungo la costa tirrenica continentale tant'è che nel 73 a.C. durante la guerra condotta dai romani contro gli schiavi la cittadina sembra essere stata prescelta da Spartaco a capo dei ribelli per accamparsi in attesa di poter attraversare lo stretto. La fuga in Sicilia progettata dagli schiavi ribelli con il ricorso a zattere costruite con legno di castagno estratto dai boschi scillesi non ebbe tuttavia alcun esito a causa della presenza lungo lo stretto delle minacciose navi pompeiane successivamente il tratto di mare antistante della cittadina fu un teatro degli avvenimenti che segnarono l'ultimo scontro tra Pompeo e i Triunviri conclusosi nel 42 a.C. con la disfatta del primo in quel frangente il porto di Scilla offrì opportuno rifugio alle navi di Ottaviano pressate dalla flotta di Pompeo allora quando il futuro Augusto nel tentativo di rimandare lo scontro finale ad un momento a lui più propizio colse l'importanza strategica di Scilla e una volta liberatosi definitivamente dai rivali decretò l'ulteriore fortificazione del suo porto dopo Ottaviano non sembra che la fortificazione scillese abbia conosciuto nuovi rimaneggiamenti sebbene la cittadina abbia continuato a detenere l'importante ruolo di centro marittimo locale come testimonia San Gerolamo quando approdato nel 385 a Scilla durante il suo viaggio verso Gerusalemme ci ha lasciato la testimonianza nel terzo libro delle sue opere circa la grande esperienza dei marinai scillesi capaci di fornirli consigli assai utili per il buon proseguimento della navigazione lo stato di abbandono in cui sembra trovarsi la fortezza di Scilla in tarda età romana dipese dal fatto che si localizzava al di fuori degli itinerari terrestri percorsi dai barbari durante le loro invasioni nel sud della penisola infatti nel loro calare a sud i barbari utilizzarono i tracciati viari romani rimasti agibili in quell'epoca di decadenza e siccome Scilla non era allacciata alla via Popilia unica strada consolare esistente lungo la Calabria ne rimase dunque estranea di fatti la via consolare Popilia pur scendendo lungo la costa tirrenica nel tratto più meridionale del suo percorso non seguiva la linea di costa ai primi monaci basiliani gli storici attribuiscono la fondazione del monastero e della chiesa di San Pancrazio tra il 700 e l'800 dopo Cristo fortificati per volontà della stessa Bisanzio che aveva affidato ai padri il compito di difesa delle coste dello stretto alcuni scavi hanno portato alla luce strutture murarie del monastero basiliano di San Pancrazio edificato come abbiamo visto intorno alla metà dell'800 come difesa dalle incursioni seracene il terremoto nel 1783 rappresenta uno spartiacque importante nella storia di Scilla per la particolare violenza con la quale si abbatté sulla cittadina e anche perché rappresentò la fine di uno sviluppo economico che Scilla ebbe lungo tutto il 1700 il successivo terremoto del 1908 fu ancora peggiore perché costò a Scilla come anche a Messina che era di limpettaia migliaia di morti gli scillesi per sfuggire ai violenti movimenti tellurici dopo il crollo delle loro abitazioni si riversarono sulla spiaggia pensando di essere al sicuro ma un violento maremoto lo stesso che si riversò su Messina si abbatté anche sulla spiaggia di Scilla travolgendoli e finendo così per decimare la popolazione non si può parlare di Scilla senza parlare del castello ruffo di Sicilia che abbiamo già visto come Rocca talvolta noto anche come castello ruffo di Calabria l'antica fortificazione situata sul promontorio scilleo proteso sullo stretto di Messina infatti il castello costituisce il vero e proprio genio sloci della cittadina di Scilla che è sicuramente uno degli elementi più caratteristici e tipici del paesaggio dello stretto e del circondario regino la prima fortificazione della rupe di Scilla come abbiamo visto risale all'inizio del 500 a.C. ma è nel 1255 che per ordine di Manfredi Pietro Ruffo fortificò ulteriormente la Rocca installandovi un presidio e successivamente la Rocca fu ulteriormente fortificata da Carlo I d'Angiot nel 1469 Re Ferdinando I di Napoli concesse il castello a Gutierre de Nava un cavaliere castigliano vicino alla corte ragonese e originario della Germania dal quale discendono i de Nava di Reggio che fece eseguire nuovi interventi di ampliamento e di restauro nel 1543 però il castello venne nuovamente acquistato da Paolo Ruffo che decise di restaurarne il palazzo baronale poiché nel 1578 la famiglia Ruffo avrebbe ottenuto anche il titolo di principe di Scilla di Scilla di Scilla di Scilla di Scilla